Bene, anche oggi dai laboratori di Sound Machine per presentarvi questo giocattolino molto interessante che consentirà di integrare tutti i contenuti del vostro telefono nel vostro smartphone sul vostro Sinto Monitor installato sulla vostra vettura. Questa è l'interfaccia grafica, a questo punto prenderemo il nostro iPhone andremo a selezionare AirPlay perfetto, selezioneremo l'HotSpot Wi-Fi e immediatamente abbiamo i contenuti del nostro telefono sul nostro Sinto Monitor ovviamente le schermate dello smartphone vengono visualizzate in verticale ma nel momento in cui dovessimo selezionare un filmato adesso ne scegliamo uno ecco qua no, magari a colori è meglio parte il filmato e lo vediamo sul nostro Sinto Monitor e lo ascoltiamo ovviamente la connessione è Wi-Fi per cui anche la qualità video e audio sono eccellenti abbiamo trasferito i contenuti del nostro telefono, del nostro smartphone sul nostro Sinto Monitor questo è un bel sistema per generare una fonte di intrattenimento sul vostro Sinto Monitor a un costo direi piuttosto accessibile, parliamo di circa 190 euro per l'acquisizione del prodotto bene, alla prossima, da Valentino, ciao a tutti